C'è un posto che non appartiene a nessuno, perché è di tutti, dove si incontrano i sogni dei ragazzi, si fanno canestre, gol e capolavori. Un posto dove chiunque è il benvenuto, a chi cerca nuovi inizi, a chi incontra vecchi amici. Un posto in cui si diventa grandi e si impara a fare dei propri talenti un sole che splende, della propria vita un'opera d'arte. Questo posto esiste e sei tu a farlo, insieme ai sacerdoti. Quando doni, sostieni i sacerdoti che ogni giorno si dedicano alle nostre comunità. Vai su uniti nel dono.it e scopri come fare.